Ciao ragazzi, come state? Spero di trovarvi bene. Allora, forse qualcuno di voi ha visto gli scorsi video e sa che ho spacchettato un pacco delizioso in cui ho trovato tanti oggettini triggerosi e quindi dopo tanto, tanto tempo mi ritrovo a registrare di nuovo un video triggeroso. Questo che sentite sottofondo è sempre Johnny, che si racconta le storie da solo perché sta dormendo. Dito? Ok, scusate. Allora in questo video ascolteremo tutti questi suoni degli oggettini presenti in questo pacco e parlerò almeno possibile. E niente, mettetevi comodi e rilassatevi. Grazie a tutti. 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 purtroppo comunque all'interno del pacco c'era questa busta che conteneva i campioncini e questa carta che avvolgeva tutta la scatola e sotto l'ultimo video triggeroso vi avevo chiesto se aveste dei suoni preferiti dei trigger preferiti in modo tale che potessi riproporveli in un altro video triggeroso appunto e uno di voi in particolare R mi ha detto che a lui piace molto il suono della carta che viene insomma piegata perché lo trova molto più gradevole rispetto a quello della plastica che per lui è insomma un po' troppo forte e quindi ho anche l'occasione per inserire questo trigger con questa meravigliosa carta e quindi Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 Ora, Grazie a tutti. E' Grazie a tutti. 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 Ok. Vi aspetta a tutti.